Amici di Teledeon, bentrovati a questo nuovo appuntamento con elettori ed eletti. 20 e 21 settembre i pugliesi torneranno alle urne per il rinnovo del Consiglio regionale per scegliere il Premier per i prossimi 5 anni, ma si vota anche alle comunali. Comunali in città importanti del nostro territorio, come per esempio Andria. E oggi incontriamo due protagonisti di queste due competizioni elettorali. Da una parte Antonio Nespoli, grazie per essere con noi, consigliere comunale di lungo corso, più volte assessore nelle giunte degli ultimi anni e ora candidato al Consiglio regionale, ricordiamo il suo ruolo di commissario cittadino di Forza Italia e in virtù di questo ruolo è stato chiamato a rappresentare questo territorio in Consiglio regionale, sempre con Forza Italia. Grazie per essere con noi. Per quanto riguarda invece il Consiglio comunale di Andria, incontriamo, noi ne siamo particolarmente lieti, uno dei candidati della lista di Forza Italia, parliamo di Bino Vurchio, Savino Vurchio all'anagra, Bino tutti la conoscono con questo nome, appunto candidato di Forza Italia al Comune di Andria. E allora entriamo subito nei temi, andiamo velocemente alle questioni di carattere regionale. Ricordiamo infatti che il Comune di Andria sta per essere investito da due impegni fondamentali per il suo futuro. Da una parte l'interramento della ferrotranviaria con tutto quello che può comportare anche in termini di ricadute sull'ambiente, sull'urbanistica, oltre che l'impatto economico ovviamente, e dall'altra parte la costruzione del nuovo ospedale. Un ruolo fondamentale avranno in questo i consiglieri regionali. Sì, grazie per l'invito. Come ho già anticipato anche in passato, queste due opere insieme ad altre hanno caratterizzato anche l'azione amministrativa negli anni passati, perché è giusto ricordare anche le cose buone che sono state fatte. Ora, è vero che il tutto è di competenza regionale, ma ci sono state tutta una serie di atti propedeutici, di deliberazioni consigliari, di giunta, che hanno consentito poi dopo di portare a compimento questi progetti. Cosa che in passato... Certamente, bisogna pensare soltanto al tracciato, pensare... Cosa che in passato, ad esempio, non era accaduto in questi termini, perché un primo progetto di interramento, rinviene dalle amministrazioni precedenti a quelle del 2010, e prevedeva un tracciato diverso, addirittura quasi una metropolitana che entrava nel centro della città, e quel progetto poi non ha avuto un seguito perché era, diciamo, irrealizzabile. E in quel caso si è perso del tempo. Quindi, quando qualcuno vuole attribuirsi dei meriti, bisogna, per onestà intellettuale, ricordare tutto l'iter che determinate procedure hanno avuto, e con le amministrazioni, diciamo, di centrodestra, questo iter è stato portato a compimento, modificato, ripeto, in alcuni casi, ma poi portato a compimento. E ora sarà la Regione a dover far partire il tutto questi lavori, per quanto riguarda l'interramento della ferrovia, e, diciamo, credo che i lavori siano stati già pautati, e quindi va messa in esecuzione un'opera strategica importante. Ma vanno seguiti i lavori, vanno indirizzati. Vanno seguiti, perché lascio immaginare a tutti i telespettatori, ecco, l'impatto che avrà un'opera del genere, anche delle difficoltà durante l'esecuzione dei lavori, che possono sorgere quindi da creare problemi magari alle avviabilità per la realizzazione degli stessi, ma poi dopo vedremo un'opera che la città aspettava da anni. Io spero quanto prima che questa opera possa essere portata a compimento, che quanto prima quella tratta ferroviaria possa riprendere il suo percorso, perché è legata ad un evento tragico che caratterizzerà la nostra città per sempre, e però i sogni di molti ragazzi sono in questo momento messi nel cassetto, perché raggiungere l'università, raggiungere altre scuole è diventato un problema, e questo sicuramente impatta anche sull'offerta scolastica e la formazione dei nostri giovani. Per quanto riguarda l'ospedale, anche quella è una costruzione importante, e che andrà seguita, come andrà seguito molto anche, io ci tengo molto a che l'attuale ospedale venga convertito in una struttura che veramente sia rivolta ai bisogni e sia funzionale alle esigenze dei nostri concittadini, che quindi venga al meglio e subito convertito, perché possa realizzare sul territorio un'offerta sanitaria più ampia, più di qualità, soprattutto per il periodo che stiamo vivendo. Ecco, questo è sicuramente importante, così come è importante garantire una sorta di continuità tra comune e regione, comune e regione che devono parlare la stessa lingua politica e devono consentire alla comune di Andria di intercettare tutti i bandi, tutti i finanziamenti, tutte le opportunità che possono arrivare dalla regione, dallo Stato e dall'Europa. È strategico questo, perché per far fare un salto di qualità alla nostra regione ci sarà bisogno di gente capace, esperta, in grado di saper intercettare tutte le possibilità che ci saranno, ne saranno veramente tante, fondi, sure, recovery fund, e le regioni saranno dei centri di spesa che quindi avranno un collegamento diretto con l'Europa e per questo è apprezzabile la proposta del Presidente Fito, quello di mettere, diciamo così, di riattivare quell'ufficio di rappresentanza della Puglia a Bruxelles, che lui aveva previsto, ma che poi Emiliano invece ha lasciato andare in disuso, perché sarà strategico per intercettare le risorse per trasferirle sul territorio e non si trasferiranno più le risorse come avveniva decennio or sono, diciamo, quando venivano dati questi finanziamenti a pioggia, ma bisogna presentare progetti di qualità e su questo quindi ci si confronterà, ecco, su quel salto, su quel quid in più che deve avere una compagine politica rispetto ad un'altra e credo che ci siano i presupposti e per questo anche noi a livello comunale abbiamo voluto formare una lista che non soltanto, diciamo, fosse rappresentata da volti nuovi, ma che dietro a quei volti ci fossero delle storie, delle esperienze professionali e delle idee da mettere al servizio della comunità, proprio per raggiungere questi obiettivi che consentirebbero al nostro comune anche di far fronte alla situazione finanziaria un po' fragile che sta attraversando. Un assist migliore non poteva esserci per rivolgerci a Bino Vurchio, appunto candidato al Consiglio Comunale di Andria come nella lista di Forza Italia. Perché entrare in politica? Chi è innanzitutto Bino Vurchio? Intanto vi ringrazio per avervi ospitato. Io sono un professionista di Andria ed esercito la professione da circa 25 anni. Ho avuto il piacere... Sono commercialista, sono esperto contabile e revisore dei conti. Ho avuto il piacere di annoverare tra i miei clienti anche Antonio. Ho aperto la partita IVA ad Antonio quasi 22 anni fa. Sia io che lui siamo due progetti di finanza agevolata, quindi siamo un esempio vivente di quanto sia importante attingere ai fondi e a tutti gli strumenti a sostegno dell'autoimpiego. E questo per me è stato un karma. Cioè sostanzialmente io addirittura ho fondato il mio studio sulla finanza agevolata. Io non avevo nemmeno un cliente, quindi mi sono dovuto inventare professionista da zero. E in quell'epoca c'era il prestito d'onore come strumento, diciamo, di finanza agevolata per le start-up. E ne ho fatto parte, chiaramente, parte che sostanzialmente ha avuto un duplice aspetto di utilizzare questo strumento e addirittura farne una vela. Cioè sostanzialmente mi ha fatto in modo che questo stesso strumento facesse trascinare altri progetti. E quindi sostanzialmente, chiaramente è inevitabile che questi stessi progetti si concretizzassero i miei clienti. In effetti i miei clienti sostanzialmente sono per la maggior parte progetti di finanza agevolata. Qual è poi il passaggio verso la politica? Il passaggio verso la politica. Più volte sono stato sollecitato da più parti, diciamo, anche con amici e ho condiviso anche studi di finanza agevolata con colleghi della mia città. E più volte mi è stato sollecitato. Però non ritenevo opportuno, anche perché, a dire la verità, io sono uno che lavora molto in ufficio. La politica l'ho sempre vista un po' più distaccata, l'ho sempre vista uno strumento a medio-lungo termine. Io invece sono uno molto pratico, sono uno molto operativo. Io mi sbraccio e lavoro. E questo l'ho trasmesso ai miei collaboratori, ne vado fiero. Ho sempre fatto in modo che i miei collaboratori capissero l'importanza della professionalità, di garantire il servizio, di pensare alle cose pratiche. Questo è stato... Ecco, questo è un aspetto importante, perché praticamente i consiglieri comunali del prossimo mandato dovranno fare i conti con le difficoltà di cassa. Commettere la sua esperienza su questo. Allora, questo ne sono cosciente, è evidente. Anzi, a dire la verità, quest'anno non sono andato nemmeno in ferie. Mi sono preso la briga, che era una cosa che avevo sempre desiderato fare, di mettere mano nell'albo pretorio e quindi di scaricarmi un po' di materiale, soprattutto evidentemente i rendiconti. Beh, i rendiconti sono complessi, sono... e sono per gli addetti ai lavori. Allora, la politica, io credo che molte volte non entra nel merito dei principi contabili, piuttosto che delle norme, perché chiaramente deve fare la politica, non può nemmeno interessarsi a questo. Quindi io da tecnico ho dovuto fare degli approfondimenti e mi sono reso conto che, effettivamente, è chiaro che non posso andare indietro nel tempo di dieci anni, però per esempio nell'arco temporale degli ultimi tre anni i principi contabili che sono stati resi obbligatori dal primo gennaio 2015 hanno un po' imbrigliato i comuni con alcune difficoltà a incassare i debiti pregressi. Quindi questi residui passivi, per intenderci, sono diventati un grosso problema. E anche i criteri che sono stati adottati sono un po' stringenti. È chiaro che io non è che voglio dire ma questo cosa significa in termini pratici. È evidente che comunque la difficoltà dell'amministrazione è anche quella di trovare delle soluzioni che sostanzialmente fino a un certo punto possono essere operative, ma altre inevitabilmente si ritrovano a dover far fronte con queste poste di bilancio che sono i fondi di dubbia esigibilità, i residui passivi, poi questi metodi di calcoli particolari che restringono l'operatività del Comune. Il Comune ha degli avanzi di bilancio, ma in virtù di questi fondi pregressi è costretto ad accantonare delle poste e quindi inevitabilmente ci si scontra con l'impossibilità immediata senza di far fronte a degli investimenti. Ecco, questo significa che veramente Forza Italia sta provando a far ripartire la città di Andria. Sì, la presenza dell'amico Bino, prima di tutto che candidato, io ho voluto appunto fortemente la sua candidatura nella nostra lista, perché persone esperte, capaci, che potessero approcciarsi ai problemi in maniera oggettiva e quindi non è collegata a posizioni pregresse o a tutelare interessi che potevano, diciamo, in quel momento essere necessariamente tutelati anche per la campagna elettorale. Invece, ecco, un approccio in questi termini oggettivo al problema e offrire delle soluzioni, delle nuove idee, delle proposte. Credo che questo nuovo corso di Forza Italia possa essere apprezzato dagli elettori, proprio perché è fatto in questi termini al servizio della città, al servizio della comunità. Non è stato facile convincere Bino a candidarsi, però ecco, ha creduto nel progetto, ha creduto soprattutto nella trasparenza e nella lealtà di un gruppo di amici che si è voluto mettere al servizio della comunità. Insieme a lui ci sono altre professionalità in diversi ambiti, però ecco che ci possono consentire di dare un supporto concreto a una ripresa amministrativa in linea con le aspettative di questa comunità. Stessa questione che vale anche per le regionali. Forza Italia si ripropone di riguadagnare quel ruolo di guida della coalizione di centro-destra che ha avuto praticamente per 25 anni. Sì, devo dire che questa linea che abbiamo adottato per la nostra città è stata adottata anche a livello regionale e di questo ne sono particolarmente onorato di poter far parte di questa squadra sia a livello comunale sia a livello regionale perché sono state individuate delle professionalità da mettere al servizio della comunità regionale nei vari ambiti formando liste competitive quindi non più liste che magari erano fatte a misura di qualcuno e come a garanzia delle elezioni di qualcuno come diciamo noto che sta accadendo anche in questo periodo in altre liste invece noi ci mettiamo in gioco non abbiamo, lo ripeto più volte, quest'ansia da prestazione tutto quello che possiamo fare lo facciamo ma lo facciamo con la massima serenità perché noi è un servizio che rendiamo stiamo sottraendo del tempo al nostro lavoro, alle nostre famiglie ma lo facciamo veramente per la passione verso la nostra città e credo che sia importante mettersi al servizio della propria comunità Ecco, proprio pensando a mettersi al servizio della comunità ha già un'idea di qualche progetto da presentare concretamente per questa città? Allora, è evidente che abbiamo preso parte alla stessura del progetto diciamo del centro-destra con Antonio Scamarcio, sindaco e qui ne ho una copia abbastanza semplice formata di punti importantissimi e tra i primi due è evidente che si passa dall'efficientamento della macchina amministrativa che al momento è lasciata allo sbando pensiamo all'ufficio relazioni con il pubblico per esempio che non è operativo e quindi questo è già un primo aspetto di vitale importanza e quindi passiamo dalle tematiche del cittadino alle tematiche dell'impresa io mi chiedevo ancora oggi come mai non è possibile accedere al portale imprese in un giorno per esempio noi commercialisti adottiamo questo strumento su tutto il territorio nazionale questi strumenti sono stati sono stati studiati per efficientare la macchina amministrativa oggi per fare un'istanza bisogna ancora passare dalla PEC la PEC viene vista dall'operatore che la passa all'ufficio igiene che passa cioè una cosa improponibile con i tempi moderni è improponibile possiamo dire che la riorganizzazione della macchina comunale è un obiettivo prioritario assolutamente anzi fondamentale anche con le risorse scarse che abbiamo dobbiamo pensare a un sistema più efficiente fatto di know-how cioè abbiamo dei sistemi informatici che non comunicano tra di loro qualcosa dal medioevo cioè un ufficio tributi che non so se si è la mano cioè io non riesco cioè faccio fatica a immaginare che per un'impresa che con un città con lo smartphone oggi si fa si fa di tutto cioè non riesco ancora a immaginare ora bisogna prima andare all'ufficio tributi per protocollare poi recarsi a un altro ufficio per vedere che fine ha fatto l'app cioè una cosa che terribile Antonio Nespoli questo è l'approccio di chi è un rappresentante della società civile che ha a che fare con la burocrazia bisogna trovare un modo per rendere la burocrazia dei nostri delle nostre città perché non è un problema soltanto di Andri ma la burocrazia deve essere al servizio dei cittadini e non far perdere tempo i cittadini a volte la burocrazia è diciamo ripiegata su se stessa e queste idee di chi opera sul campo queste intuizioni devono far sì che la politica deve essere in grado di poter imporre nuove visioni nuove strategie non è semplice perché la macchina amministrativa la macchina burocratica diciamo risente di alcune tempistiche in alcuni settori si è più capace di intervenire perché si trova magari terreno più fertile però ecco se un'azione amministrativa è improntata a snellire dappertutto chi ci lavora si deve adeguare e allora ringraziamo Antonio Nespoli candidato di Forza Italia al Consiglio regionale e ringraziamo Bino Vurchio candidato di Forza Italia al Consiglio comunale di Andria grazie per essere stati con noi l'appuntamento è nelle prossime ore sempre con elettore De Letti non andate via restate con i programmi di Teledeon Grazie a tutti Grazie a tutti